Ciao a tutti e benvenuti. In questo video rispondo a delle domande che mi avete posto in merito a come creare una voce rotonda e non sbiancata, non piatta. Quindi in particolar modo mi avete chiesto se potevo indicarvi delle strategie pratiche per poter raggiungere questo obiettivo. Una piccola introduzione sulla voce piatta o sbiancata, diciamo in questo modo molto pratico, perché avviene? Per diversi motivi, ad esempio bisogna valutare come noi muoviamo la bocca, spesso la voce è ipomimica, quindi si parla e si canta così con poco movimento dell'elasticità proprio dei muscoli orbicolari della bocca e dei muscoli del viso. La bocca può essere in questo caso tenuta anche molto in orizzontale e molto rigida, quindi parlare e cantare in questo modo, muovere poco appunto i muscoli del viso e utilizzarli in modo poco elastico. Un altro elemento potrebbe essere il parlare e cantare con un palato molto molto piatto. Noi abbiamo in questo caso poi un cavo orale molto stretto e la voce tende appunto a uscire piatta. Se io ho uno spazio schiacciato la voce uscirà tendenzialmente schiacciata, se io invece ho uno spazio più ampio e più alto allora la voce appunto esce più ampia e più alta. Quindi un elemento molto importante è lo spazio e il rilassamento che io ho nel mio cavo orale che dà la forma proprio alla voce. Un altro elemento a cui bisogna porre attenzione è lo sgancio mandibolare, quindi il fatto che la mandibola non sia rigida quando noi parliamo o cantiamo ma morbida e sia rilassata, quindi che il condili, queste due parti si aprano, si senta questo sgancio mandibolare morbido, come abbiamo visto in altri video come ad esempio il masticato. Vedete come i muscoli della bocca, la mandibola, i muscoli proprio del viso si rilassano. Andando al sodo vi darò qualche spunto, qualche strategia presa dalla mia pratica. Innanzitutto possiamo mettere due mani sul nostro viso, qui noi abbiamo tutto il cavo orale. pensate di avere il viso ad esempio che scotta o avere del cibo in bocca che scotta. Pensate che tutta la parte interna del vostro cavo orale sia molto molto calda e in questo modo noi abbiamo le nostre cavità, il nostro cavo orale qui. Che cosa facciamo? Pensiamo tanta morbidezza e ampiezza qui, come ad esempio potrebbe essere l'idea di uno sbadiglio o di alitare, quindi pensate tanto sempre nel canto alla morbidezza, ok? Quindi avendo il senso tattile del nostro cavo orale qui, ampio, cosa facciamo? Lasciamo che la nostra voce scavalchi questo cavo orale e vada in avanti. Sentite, io ho lasciato tanto spazio interno ma ho girato la mia voce avanti, non ho fatto mi raccomando la voce sempre avanti come una sorta di ruota si dice in termini tecnici e didattici. Una strategia potrebbe anche essere quella di pensare di avere un'anestesia oppure il mal di denti oppure appunto l'alitare. Dilatate, dilatate il vostro spazio dietro in avanti, molto morbido, questa morbidezza e ampiezza del cavo orale vi permette poi di cantare appunto su questa ampiezza. Quindi ricordatevi ad esempio l'idea del cibo che scotta, dell'alitare o appannare un vetro oppure di avere una voce assonnata all'anestesia oppure simpaticamente spesso si dice pensare alla voce di un ubriaco, in questo senso io la voce assonnata oppure l'anestesia che dicevano prima, tanta aria calda che esce, sentite, se voi mettete un H davanti prima, create questo morbido spazio interno e cantate mantenendo questa piacevolezza di questo spazio morbido oppure potete pensare a una M fatta con uno sbadiglio morbido interno quindi preparare uno sbadiglio internamente prima mentre inspirate mi raccomando non uno sbadiglio indietro ma come una sorta di stretching morbido in avanti dietro in avanti in alto quindi e così via. Mi raccomando proiettate sempre la voce in avanti. Un altro espediente per chi canta con una voce tendenzialmente schiacciata è quella di porre due dita ai lati della bocca, questo l'ho riportato anche in diverse mie pubblicazioni quindi mi raccomando non bloccate il suono indietro ma lasciate che vada sempre avanti nella risonanza se volete pensare al vostro puntino qua pensate da sempre un altro espediente è quello di pensare alla AM una AM molto ampia e molto calda come se mordeste qualcosa sentite che non faccio, è una voce appunto come se fosse piena di aria calda un altro espediente per chi contrae i muscoli del viso ad esempio è quello di rilassare le guance quindi potete mettere le vostre mani qui premere un pochino lasciate che le vostre guance si squaglino tra virgolette ma concentrate la vostra voce sempre avanti e la forma del suono la dà le labbra il movimento delle labbra molto relax qui un altro espediente utilizzato potrebbe essere quello di preparare una posizione verticale con un palato alto e la voce gira sopra questa forma verticale quindi una sorta di o interna o in questa forma posso cantare tutte le mie vocali tutte le mie aria o le canzoni che voglio eseguire un altro trucco per chi ha le labbra troppo stirate quello di pensare ad esempio di fare le labbrona come simpaticamente si dice alla parietti o la marini in questo modo quindi molto sporte come labbra sporgono un po all'infuori si rilassa in questo modo semplicemente tutta la muscolatura della bocca un altro elemento che potrebbe aiutarvi a togliere le tensioni e quello di pensare alla vostra lingua che scotta la punta lasciandola molto morbida potete lasciarla anche un pochino fuori sporta la lingua e fare girare sempre la vostra voce fuori in questo modo scotta molta morbidezza interna in questo modo sentite veramente tanto tanto spazio dietro in alto e avanti come se avesse proprio l'interno del cavorale che scotta pieno di aria calda che continua a girare sono immagini ovviamente mentali che spero possano aiutarvi un ultimo suggerimento è quello di inspirare pensando di aspirare aria calda oppure di succhiare uno spaghetto oppure un succo in questo modo sentite pensate tanta aria che viene aspirata dietro in avanti e si si verticalizza in questo modo il cavorale tenete poi quando cantate questo questa posizione ovviamente questi sono elementi che vi do ma non vanno applicati in maniera rigida sono strategie che potete utilizzare per sentire per percepire la vostra voce penso sempre di aspirare di succhiare aria dietro in alto e avanti va bene spero di essere stato di aiuto vi mando un saluto e a presto ciao